Ciao bimbi, eccoci di nuovo insieme, vi ricordate di me? Sì, ci siamo già conosciuti nell'altro video, vediamo! Grazie a tutti! 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 Vi do un grosso bacio e vi saluto! Ciao! Oh ecco eh, allora, dove siamo? Eccoci, buongiorno! Ciao bambini! I bambini? Dove sono i bambini? Ah, guarda, sono là! Devi guardare là, hai di saluto! Eh, che bello! Sono tutta un gatto! Ragazzi, è un piacere vedervi tutti quanti! C'è un sacchetto rosso chiuso, chiuso! Dentro chissà cosa ci sarà! Dentro chissà cosa ci sarà, sembra di sentire miagolare, miau, 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 miau! È la gatta turchina! È una gatta magica furbetta, che racconta storie e favole, ma per farla uscire dal sacchetto, come si fa? C'è una formula magica! Frulla, frullina, la gatta si avvicina, gatta turchina, dai vieni qui! Passo, passetto, dai esci dal sacchetto, gatta turchina, siamo tutti qui! Ora battiamo il piedino, pipetappet, 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 le braccia incrociate e sbuffiamo un po'! Gatta su, non farci più aspettare, vogliamo giocare un po' con te, ma per farti uscire dal sacchetto, come si fa? Mettiamo le mani sopra i fianchi, muoviamo un po' il bacino, facciamo lula hop! Oh 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 Frulla, frullina, la gatta si avvicina Gatta, durchina, miau, 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 miau Passo, passetto, sta uscendo dal sacchetto Chiudiamo gli occhi, fra poco apparirà Fra poco apparirà Fra poco apparirà Gatta, durchina, durchina, durchina Ciao! Eccoci di nuovo con la gatta durchina pronti per raccontare un altro pezzetto della nostra storia La chiamiamo? Gatta durchina Un po' più forte Gatta durchina! Eccomi, eccomi! Arrivo subito! Vi devo dire una cosa importante Che cosa ci dovrà dire, gatta? Vieni, vieni, che siamo curiosi Vi devo chiedere una cosa Non è che siete andati già al castello della bestia senza di me? No, gatta, tranquilla, ti abbiamo aspettato Però, bravissima, ti sei proprio ricordata qual era il punto della storia in cui siamo arrivati E voi, bimbi, vi ricordate? Bobo e Periglio nel bosco avevano incontrato la bestia della storia della bella e la bestia E avevano deciso di seguirla perché volevano proprio vedere come era fatto il suo castello Allora, gatta, ci andiamo anche noi? Sì, sì, non vedo l'ora Ah, bimbi siete pronti? Andiamo a curiosare nel castello della bella e la bestia? Allora, mettiamo un po' di musica Bobo e Periglio arrivarono al castello della bestia Che si ergeva maestoso in cima a una collina A vederlo così, avvolto nel buio e nella nebbia, metteva i brividi Dalle grandi vetrate che davano sul giardino, filtrava una luce di candelabri accesi Bobo disse, vedo che nel salone c'è una tavola apparecchiata Secondo me, se avremo fortuna incontreremo anche quella meravigliosa creatura di bella Oh, che animo gentile, che cuore grande Bobo e Periglio vennero accolti da due bizzarri servitori, Lumière e Tokins Bobo spiegò loro che erano giunti in quel castello per una ricerca scientifica sulla paura E i due simpatici personaggi spiegarono che anche loro avevano una missione molto importante da portare a termine Dovevano convincere bella che bestia non era poi così cattiva Credo di iniziare a capire, disse Periglio al suo amico Bobo Non sempre quello che si vede corrisponde al vero Bisogna prima conoscere, bisogna indagare Ed è esattamente quello che faremo, disse Bobo Beh, ma ora non c'è tempo, l'interruppe Brusco Tokins È quasi l'ora di cena e noi dobbiamo finire di apparecchiare la tavola per la bestia e la sua ospite speciale Bella E ora scusateci, ma dobbiamo andare Bobo e Periglio si rannicchiarono in un angolino per gustarsi la scena Gata, ma tu sai apparecchiare bene, bene, bene la tavola come fanno i grandi quando preparano per il pranzo o per la cena? Sai mettere proprio le posate al posto giusto? Mmm, insomma, io sono un po' pasticciona, e tu? Eh, anche io, mi sbaglio sempre, non so se il cucchiaio va a destra o a sinistra E voi bambini siete capaci? Gatta, perché non chiamiamo Flavia? La nostra amica Flavia che è molto precisa e sa un sacco di cose Sono sicura che lei ci potrà insegnare ad apparecchiare una tavola perfetta proprio come quella che stavano apparecchiando Lumiere Tokins per la bella e la bestia Allora, la chiamiamo? Io sono sicura, bambini, che ormai avete imparato come si fa a chiamare i nostri amici Bisogna mettere le mani sugli occhi e contare fino a tre Pronti? Mani sopra gli occhi Uno, due, tre Buongiorno ragazzi e benvenuti nella cucina di Benedetta Parodi No, stavo scherzando, questa non è la cucina di Benedetta Parodi è la cucina della gatta Turchina E io sono Flavia Oggi siamo qui per imparare ad apparecchiare la tavola Eh sì, perché nella storia della bella e la bestia c'era una tavola benissima apparecchiata benissimo e quindi anche voi dovete imparare come si fa ma la dovremo apparecchiare velocissimi, mi raccomando Allora, so che Giuseppe ha già detto quello che vi serve e vediamo se ho tutto l'occorrente anch'io in cucina Dunque, so che serve innanzitutto un tavolo però se non lo avete a disposizione potete anche giocare per terra Poi ci servirà una tovaglia oppure una pezzetta per asciugare i piatti andrà benissimo Poi, poi, poi ci servirà un piatto Attenzione che questo è di coccio se cade si rompe però voi potete usarlo in plastica o anche di carta Poi abbiamo un bicchiere anche questo è in vetro quindi dobbiamo fare attenzione le posate una forchetta un coltello attenzione che questo taglia un cucchiaio e per finire un tovagliolo Ci siamo? Avete preso tutto? Bene, allora possiamo vedere come si apparecchia Adesso lo vediamo lentamente con calma Dunque, prima di tutto prendiamo la nostra tovaglia la apriamo la stendiamo bene sul nostro tavolo ecco facendo attenzione alle pieghe ecco così perfetto poi il piatto al centro ecco qua così dopodiché metterei le posate prima di tutto la forchetta la forchetta va a sinistra di qua eccola qui a sinistra il coltello attenzione ecco il coltello lo prendiamo delicatamente e lo mettiamo a destra la parte che taglia bisogna girarla verso il piatto e il cucchiaio eccolo qui che è maschio e anche il coltello è maschio visto che sono amici deve essere messo qui vicino così quindi coltello e cucchiaio vicini che cosa manca? Anzi, certo il bicchiere va messo sì al centro sopra il piatto ma un pochino spostato a destra perché così sarà più facile prenderlo per bere chi scrive e disegna con la sinistra è un po' svantaggiato ma questa è una regola che è stata scritta tanto tempo fa e poi ah sì certo il tovagliolo che possiamo mettere sul piatto se proprio vogliamo rendere la tavola meravigliosa sapete che facciamo? prendiamo anche un bel vaso di fiori o un segnaposto e così completiamo la tavola tutto chiaro? siete pronti? perché adesso dobbiamo essere velocissimi eh? tolgo tutto e siamo pronti per cominciare e allora tre due uno via! così pieghe 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 quella dritta ok ci siamo allora questi 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 vanno qui poi mettiamo così fatto forse non va bene forse questo va così no allora no abbiamo detto che questi sono vicini però no a destra a destra il coltello però qua girato forse va così no così no via a sinistra qui a tovaglia tovaglia e poi velocissimamente il graffinare e voilà tada che dite va bene perfetto vero benissimo ragazzi avete capito tutto sono sicura di sì sarete diventati bravissimi allora la mia lezione è finita io vi saluto e vi mando un abbraccio grande a presto bene bimbi avete apparecchiato la tavola allora vediamo come prosegue la storia un waltzer risuonò nella sala piatti bicchieri posate e poi pietanze dolci frutta danzavano le giadre nell'aria mentre dalla grande scala scendeva belli splendida ma dal volto triste Lumière l'aiutò a sedersi a tavola le presentò alla cena e cercò in tutti i modi di farla sorridere fu allora che entrò preceduto da quel rumore di tuono lontano la bestia fece il suo ingresso nella sala da pranzo e si avvicinò a Bella la ragazza si portò le mani agli occhi e iniziò a tremare ma aspettate i bimbi mi sembra di vederli sono molto brutto è vero? brutto? un tipo? non il mio tipo avete ragione sono benissimo di essere una bestia eppure sono qui ancora una volta per chiedervi volete sposarmi? eh no bestia non esageriamo lo so voi siete molto buono con me mi trattate bene tutti qui mi vogliono bene guardate quando ci penso non sembrate poi neanche così brutto ma no bestia non posso no allora vi chiedo almeno di essere mia amica e di non lasciarmi mai lo farei volentieri bestia ma guardate c'è mio padre che sta morendo di dolore e mia nonna mia zia il cane il gatto le papere chi mette l'acqua le papere? se tornerete dalle vostre papere e da vostro padre sarò io a morire di dolore e allora vi prometto che sarò qui fra otto giorni e non vi lascerò mai più allora andate ma ricordatevi della promessa ciao bestia ciao 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 che bella questa storia non vedo l'ora di conoscere il finale ve lo racconterò nel prossimo video perché adesso io e la gatta turchina dobbiamo proprio andare ciao bimbi ci vediamo presto voi però prima di andare via potete cantare e ballare ancora una volta la canzone del drago bobo ve la ricordate? quella che fa io sono un drago quasi normale ho il corpo grande ho la coda e quattro zampe uno due tre quattro la testa grande il naso grande cammina come un drago vero anche tu bobo 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 salta 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 e vola 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 e salta 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 e vola 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 io sono un drago un po' speciale faccio paura ma paura non hai tu bu io sono bobo il drago buono rincorro le farfalle poi è strano mi hanno sputo fuoco e non ti mangerò io sono un drago un po' curioso mi chiedo il come ed il perché raccolgo i fiori e mi riposo tra le nuvole rincorro le farfalle le 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 raccolgo i fiori fi 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 sono molto curioso chiedo sempre perché 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 e tutte le mattine saluto il sole ciao sole ciao ciao sole ciao mi canto una canzone canta con me si chiama bobo il drago buono rincorre le farfalle poi è strano comando sputa fuoco e non ti mangerà lui è un drago un po' curioso si chiede il come ed il perché raccoglie i fiori e si riposa tra le nuvole po 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 Grazie a tutti